Secondo gli anticomplottisti, le persone che stanno dall'altra parte dei complottisti, secondo gli anticomplottisti vaccinarsi per una malattia che probabilmente non prenderò mai, ammesso che i vaccini funzionino, è giusto. Questo è il primo assunto, abbiamo assunto questa informazione. Secondo gli anticomplottisti, vaccinarsi per una malattia che non prenderò probabilmente mai, è giusto, con le conseguenze che i vaccini comportano, conseguenze reali. Però, parlando di scie chimiche, io mi vaccino automaticamente per un possibile problema, e quindi parlare di scie chimiche potrebbe essere una sorta di vaccino contro un problema reale delle scie chimiche. Però l'anticomplottista dice che io devo assumermi le mie responsabilità con tutti i miei migliaia di scritti, perché se io parlo e dico che le scie chimiche potrebbero essere un beleno e mettere a repentaglio la nostra vita, io mi devo assumere le mie responsabilità di quello che dico. Ho delle responsabilità perché sto dicendo una cosa che potrebbe non essere vera. Beh, il vaccino funziona alla stessa maniera. Il vaccino ti vaccina per una malattia che potresti non prendere mai. Quindi, io dico solo una cosa, considerate le parole dei complottisti contro le scie chimiche come una sorta di vaccino per le scie chimiche. Perché le scie chimiche potrebbero esistere come non potrebbero esistere, no? Ragioniamo come voi, cari anticomplottisti. Mi vengono a scrivere in chat che io ho delle responsabilità. Allora, valutiamo queste responsabilità. Se voi sostenete che un vaccino giustifichi il fatto che io quella malattia potrei non prenderla mai e pagare le conseguenze di una sostanza introdotta nel mio corpo di cui non si sa, o almeno voi non lo sapete, ma noi lo sappiamo che cosa può fare, allergie, autismo e cose di questo genere, ok? Per una malattia che potrei anche non prendere. Quindi è un rischio calcolato, secondo come dicono gli scienziati. È un rischio calcolato. Allora io vi dico che il canale di spettro e le parole di spettro maledicto sono un vaccino per le scie chimiche. Perché se le scie chimiche non esistono? Vabbè, ci facciamo quattro risate, prendiamo spettro in giro, diciamo quello è un pazzo, c'ha dei problemi mentali e tutti ci facciamo analizzate e non succede nulla. Se invece le scie esistono veramente, sono nocive, parliamo di un vaccino preventivo. Lo sapevamo, cerchiamo di fare qualcosa, analizziamo questi scarichi di queste scie chimiche, questi scarichi, vediamo un po' questo bario, questo stronzio, tutti questi materiali, questi metalli pesanti di cui si parla tanto. Quindi l'incongruenza di questi anticomplottisti non ha limiti. cioè accettano di vaccinare una popolazione per una malattia che non prenderà mai con le conseguenze del caso, perché sono preventivate, ma non accettano le parole dei complottisti sulle scie chimiche che potrebbero essere un pericolo, ok? Perché credono come oro colato alle parole dei mass media, della scienza. Ma lo vedete che fate acqua da tutte le parti? Voi fate acqua da tutte le parti? Mi venite in chat a scrivere che io ho delle responsabilità verso i miei migliaia di iscritti? Perché parlo di scie chimiche. Allora, questo è un'incongruenza mentale. Voi dovete fare un attimo, mente locale, guardarvi allo specchio e dire ma che minchia sto scrivendo su questo post di Spectro maledicto? Sto scrivendo una cosa che va contro quello che ho detto 5 minuti fa nel video precedente di Spectro. Nel video precedente di Spectro dove parlava dei vaccini ci sono andato contro. E ho detto ma quello è una cosa preventiva. riusciamo a salvare delle vite umane anche se quelle vite umane poi non prenderanno mai quella malattia però avranno le conseguenze del vaccino. Però nello stesso tempo, nel video dopo di Spectro che parla di scie chimiche e dice ma Spectro tu hai delle responsabilità quando parli di scie chimiche con i tuoi migliaia di utenti con i tuoi migliaia di iscritti ma allora io dico cioè poi sento parlare scienziate dove dicono con le parole che facciamo parte di un esperimento scientifico come è successo ultimamente nei mass media nei mainstream che facciamo parte di un esperimento scientifico mondiale però lui non voleva dire questo cioè mi sembra sta a vedere lo sketch di Aldo Giovanni e Giacomo che gli dice che tu sei un ignorante perché ignori ma tu sei un imbecille perché imbelli cioè ma voi vi rendete conto che se io dico che facciamo parte di un esperimento scientifico poi mi dite eh ma tu l'hai detto e io dico no non è vero perché io non volevo dire quello cioè ma possibile che ve la fanno sotto il naso io sono allibito vi spacciate per persone intelligenti e poi uno più uno fate le operazioni di trigonometria sui fogli di carta calcoli astronometrici e poi non sapete quanto fa uno più uno nei discorsi più semplici e più logici vi perdete beh in questo breve video vi voglio soltanto dire che i complottisti sono il bacino per le scie chimiche perché se le scie chimiche fossero tossiche voi se le stati avvertiti se le scie chimiche non fossero tossiche ci facciamo quattro risate senza conseguenze cosa invece un po' diversa per i vaccini veri per le malattie perché se tu prendi quella malattia non si sa se il vaccino magari potrebbe essere in qualche modo utile ma comunque se non prendi quella malattia quel vaccino ti ha introdotto delle sostanze che non si sa cosa possono fare nel tuo corpo quindi il vaccino stesso potrebbe essere tossico voi avvalorate il discorso dei vaccini ma il vaccino dei complottisti verso le scie chimiche non vi conviene più ma secondo voi siete coerenti o non siete coerenti con quello che dite perché poi voi dite e basta noi facciamo noi facciamo mozioni noi facciamo denunce noi cerchiamo di capire noi facciamo prelievi aerei per cercare di vedere che cosa ci stanno buttando addosso e voi che fate? voi andate su Wikipedia Wikipedia andate ad accendere la vostra tv e vi fidate di quello che vi dicono siete utili secondo voi? secondo voi fate una cosa utile? cioè quando una persona mi viene a dire una cosa di questo sulla chat senza che muova dito dalla sua scrivania senza indagare senza fare ricerche senza niente solo perché ha acceso la televisione ma voi vi rendete conto che forma mentale avete? io sono allibito allora io sono insieme ai complottisti il vaccino per le scie chimiche riflettete ragazzi riflettete le responsabilità vere le avete voi perché dicendo dicendo che le scie chimiche non esistono e se poi invece esistono avete soltanto rassicurato delle persone che un giorno ne pagheranno le conseguenze quindi le vere responsabilità sono le vostre non le nostre se noi non ci fidiamo come dice il proverbio a non fidarsi si ha quasi sempre ragione ma a fidarsi si sbaglia molto più spesso allora contravvenite a tutte le regole della vita io sono atterrito dal vostro comportamento anziché di dire speck sì è vero forse sei troppo complottista però bisognerebbe indagare perché potrebbe essere anche che c'è ragione e se tu c'è ragione siamo tutti in pericolo se tu non c'è ragione sei un complottista ci facciamo quattro risate però non abbiamo non ci abbiamo rimesso niente cosa invece che non succede con i vaccini scientificamente provato no che voi dite non è vero perché non c'è mai stata una percentuale così alta di bambini autistici con tanto di testimonianze quindi fatevi un esame di coscienza prima di parlare dei complottisti sciacquatevi un po' la bocca cercate di attivare il cervello cercate di capire visto che siete numerici siete logici siete scientifici cercate di capire che cosa state dicendo prima di spedire questo post queste risposte sulle chat ragionate e accendete il cervello i complottisti sono il vaccino avete capito? il vaccino è preventivo? noi siamo preventivi nonostante le nostre ricerche comunque ci dovete considerare così siamo quelli che dubitano di tutto e a seguito ci dovrebbe stare sempre una ricerca una ricerca che va o ad avvalorare quello che diciamo o a smentire quello che diciamo le chiacchiere che fate voi non servono a niente anzi sono molto pericolose perché potrebbero far star tranquillo un popolo con queste scie chimiche in testa e magari quelle scie chimiche magari ah ma hanno detto gli scienziati che sta tutto a posto poi magari vedi la gente che si ammala perché ci sono delle sostanze tossiche quindi fate più danno voi che noi prima di ridere e di prenderci in giro fatevi un esame di coscienza un abbraccio Spectro Maledicto